buongiorno buongiorno oggi è il 12 gennaio e inizia la mia stagione motociclistica qua siamo a sesto elevante sono le 8 e 45 ci sono 3 gradi e sto andando in concessionaria a ritirare il mio street glide 2019 ancora pochi metri e ci sono in concessionaria ho preso il treno da savona con il casco e niente la stagione 2018 è stata fantastica ho fatto il costo cost dalla florida allo stato di washington poi ho chiuso la stagione con il viaggio in lituania mentre invece il mio obiettivo 2019 capo nord passando da danimarca svezia scendere poi dalla finlandia e voglio andare a san petroburgo in russia e vorrei fare questo viaggio senza connessioni navali perché di solito si prendono le connessioni navali invece io voglio fare i punti della danimarca poi appunto anziché fare al sinchi tali ne voglio passare a san petroburgo quindi questo l'obiettivo 2019 che voglio fare con quello street glide che ritiro oggi street glide 2019 4 km 5 km Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.